Dopo la Volvo, le case automobilistiche sembrano quest'estate impazzita, tutte quante rincorrere un green factor. Questa volta è la volta della BMW, che lancia in questi giorni una specie di monopattino elettrico, si chiama Motorrad X2 City, ha un'autonomia di circa 25-30 km, si ricarica in due ore e mezza ed è un monopattino come quelli che usavamo da bambini, soltanto che si può usare in città, può andare ovviamente più veloce, ci fa evitare di avere fatica nel percorso ed è portabile da tutti, non ha bisogno di casco, anche se magari sarebbe bene raccomandarlo sempre, e si può guidare da 14 anni in su senza patente. Un nuovo veicolo per la mobilità urbana, green, perché è elettrico. Insomma, se cercavamo il green factor, anche oggi l'abbiamo trovato.